Entra anche tu nel magico mondo di Cartoon, rivolgiti a The Cartoon Store ad Abola, l'unico in provincia con licenze esclusive. Troverai tutto per l'abbigliamento, la figiameria, i gadget Disney Warner, Hello Kitty, Ben 10, il mondo di patti e per chi ama l'eleganza, le linee Barbara Farber e Pointer. E ancora a liste nascita, corredini per nonati, peluche, complimenti da Redo Cartoon per la tua cameretta, zaini, astucce e grembiuri per la scuola. E da noi troverai anche maschere e accessori per carnevale e un angolo outlet per le spese più convenienti. Cogli al volo le promozioni riservate ai clienti grazie alla nostra Fidelity Card. Ci trovi ad Abola, in via Mazzini, 77, telefono 0931 81 40 42. The Cartoon Store, dove la favola diventa realtà.